E' una questione di vita o di morte. Ho un'audizione importante. Voglio grinta! Seppi! Sì! Un momento, ragazze. Ruth Zimmer vuole vedervi tutte. La tua carriera è finita. Miss Zimmer, posso... Non mi toccare. Se potessi spiegare, capirebbe... Quante visualizzazioni ha? Duecento? Oh, beh, più di trentamila. Ma che cosa vuoi fare? Papà, la mia carriera è rovinata. Ce la farai. Tu hai talento, tesoro. Ascolta, torna a casa, ok? April, devi venire a scuola a salutare le ragazze. Sarebbe di grande ispirazione. Mi piacerebbe molto. Fantastico! Forza, Churners! Forza, Churners! E due, sto pensando di fare questa cosa. Una competizione di danza. Voglio andare a Broadway. Ma scusa, come facciamo? Diciamo che 0,0001 sono le possibilità di farcela. Questa competizione non sembra stupida. Le finali sono ad Atlantic City con i più grandi giudici di Broadway. Ci sto! Ad una condizione. Vinceremo. Due settimane alla competizione. Dobbiamo lavorare sodo. Allora, è vero, sei tornata. Sara mi ha parlato di una lezione divertente l'altra sera. Che cosa siete, ballerine o nullità? Siamo nullità. Sto cercando di aiutare. Cos'è, uno scherzo? Ma è come rompere un muro. Tu ricordati come ti sentivi alla loro età. Con quelle camicie a quadri, arrabbiata. Non ero così. Ho le foto. No. Noi possiamo farcela. Quattro e cinque, sette! Questo non faceva schifo. Non facciamo schifo! Dovrei essere una ballerina, non un insegnante, giusto? Anche se non te ne rendi conto. Stai facendo la differenza per loro. Levatevi. La gritta sta per entrare in scena. Guardati. Sistemi i capelli. Fumo? Fuoco? Mia figlia è una bestia! I genitori lo sanno che ballano così. Mi rendi orgogliosa, scoletta? Mi rendi orgogliosa, scoletta?